Amici e amiche di RBA in diretta da CIS, il qui e ora dalla manifestazione organizzata dalla Slow Food, Slow Food Italia, abbiamo la direttrice Serena Milano. Buonasera Serena, ben ritrovata. Buonasera a voi, grazie. Slow Food, CIS 2023, Prati Stabili, questo è un po' il filo conduttore di questa tredicesima edizione di CIS, manifestazione biennale. Un successo direi, perché sono tante le persone che stanno arrivando in quel divrà, in questo momento di fronte a noi, insomma, sono tante le persone che passano davanti al nostro stand, al nostro spazio vicino all'area Piemonte. Abbiamo avuto modo in queste nostre trasmissioni di RBA qui da CIS di raccontare e di incontrare diverse persone e le loro storie di cambiamento, perché penso che anche il cambiamento, soprattutto il cambiamento, penso che sia una delle parole chiave di CIS. In generale, mi permetto di dire della filosofia Slow Food, il cambiamento, il cambiare le proprie abitudini, il modo di procurarci il cibo e di conoscere appunto le storie intorno al cibo che mangiamo. I Prati Stabili vogliono essere proprio la base per quanto riguarda formaggio e i prodotti derivati dal latte. Un'attenzione particolare che è necessaria e ho avuto modo anche di ascoltare storie. Si stanno ritrovando in diversi produttori e produttrici. Sì, parlare di Prato Stabile significa proporre un grande cambiamento, perché il latte che serve per fare i formaggi arriva dagli erbivori. Quindi gli erbivori dovrebbero mangiare erba e sempre più raramente gli erbivori mangiano erba. Quello che proponiamo noi, e qui lo facciamo ai consumatori, è di andare a cercare quei formaggi che invece arrivano dall'erba e dal fieno e dal pascolo. E questo ha degli effetti positivi straordinari su ogni fronte ambientale, sociale, culturale e di salute. Salute per tutti e tutte, per ovviamente i consumatori e consumatrici di tutta l'età e per gli animali stessi. Quindi il benessere anche dell'animale che appunto è qua. È veramente tutto collegato, è tutto connesso anche in questo caso. Esattamente, è tutto connesso. Salute nostra, perché quando un latte arriva da animali che hanno mangiato erba o fieno, è molto più ricco di vitamine, antiossidanti, ma soprattutto ha questo famoso, famigerato rapporto omega 6, omega 3, ottimale. Noi normalmente i nutrizionisti giustamente dicono che questo rapporto per star bene dovrebbe essere sempre sotto il 5, noi lo superiamo quotidianamente. I formaggi industriali sono sul 9-10, un formaggio da pascolo o da fieno ha questo rapporto che scende sotto il 4, sotto il 3, sotto il 2, ci sono formaggi che abbiamo analizzato che sono sotto l'1. Quindi capovolge una narrazione anche sul formaggio, il colesterolo, questi sono formaggi che fanno bene e come dicevi fanno bene agli animali anche, perché alla base del benessere animale c'è secondo noi la possibilità di avere un contatto con la terra, che di nuovo è un contatto che è sempre più negato, cioè ormai ci sono più del 90% degli animali di allevamento spendono la loro vita dentro quattro mura e non hanno mai, ma mai, la possibilità di toccare una zolla di terra, di vedere un filo d'erba o di vedere la luce naturale. Eppure accade, al giorno d'oggi, ecco, la consapevolezza e la comunicazione, come comunicare tutto questo? Siamo in tante e in tanti, oggi, in questi giorni di CIS, poi CIS da lunedì 18 chiude e si riparte, martedì 19, da lì insomma è lì che parte la vera sfida. L'esempio ovviamente di CIS che deve essere un punto di partenza, ovviamente non di arrivo e quindi insieme a te Serena vorrei parlare un po' della consapevolezza e come trasferire la consapevolezza e come comunicarla. Anche questo penso che sia una sfida assolutamente importante per consumatori e consumatrici di tutta l'età. Ma questo per noi è l'inizio, è solo l'inizio di un percorso che faremo lungo di anni perché noi abbiamo avviato un progetto nazionale proprio per andare a scovare prima e poi promuovere e valorizzare quei prodotti, latte e formaggi che arrivano da fieno e da prato stabile a cui assegneremo anche un marchio ben riconoscibile, il marchio custodi dei prati stabili, in modo che il consumatore possa vedere, scegliere, comprare e quindi sostenere questa realtà. Poi abbiamo lanciato proprio il primo giorno di CIS un manifesto per la difesa dei prati stabili, dei pascoli e dei pastori perché i prati stabili non sono selvatici, non sono seminati, non sono arrati, ma non sono neanche selvatici. Devono essere curati, devono essere pascolati o devono essere sfalciati. Quindi non sopravvivono se viene meno la presenza umana, se vengono meno le competenze anche dei pastori di questo mestiere che è il più vituperato, il più anche deriso dell'universo e che invece è un mestiere che richiede enormi competenze e che è un mestiere moderno, non è un'attività residuale, è un mestiere che guarda al futuro perché curare questi prati, curare questi pascoli significa rispondere alla maggioranza a gran parte delle emergenze attuali. Il problema della messa in sicurezza del territorio, di sesto idrogeologico, incendi, il pascolo è un argine per gli incendi, il pascolo assorbe meglio l'acqua e quindi riduce il rischio di frane, smottamenti, alluvioni. Il prato e il pascolo sono ecosistemi che sequestrano un'enorme quantità di carbonio, noi questo lo sappiamo dei boschi, delle foreste, ma non sappiamo che il prato ha una funzione altrettanto importante. E poi il prato è anche bellezza, paesaggio, turismo, quindi responsabile, per cui capovolge anche la narrazione sull'allevamento. L'allevamento intensivo oggi è sul banco degli imputati, uno dei maggiori responsabili dell'impatto delle emissioni di CO2, dell'impatto sull'ambiente. L'allevamento basato sul fieno di fratto stabile, sul pascolo, non è più un problema, ma diventa un pezzo della soluzione. Non solo non ha un impatto negativo, ma ha un impatto positivo. Quindi capovolge radicalmente una narrazione e quindi se riusciamo a comunicare, a spiegare tutti questi elementi alle istituzioni, alle organizzazioni e ai consumatori, e anche ai nutrizionisti, anche a chi parla quotidianamente di diete, di cosa fa bene e cosa fa male, il latte fa bene e il latte fa male, se riusciamo ad arrivare a tutti questi soggetti, noi riusciamo a fare un'operazione straordinaria perché questi prati, questi pascoli possono diventare una chiave per la rinascita delle aree interne, delle terre alte, che in Italia rappresentano l'80% del territorio, cioè quelle che vengono dette aree marginali rappresentano l'80% del territorio. E negli ultimi 50-60 anni il modello di sviluppo di questo paese ha puntato completamente su città e costa e si è totalmente scordato dell'80% del proprio territorio. Il cambiamento passa anche da qui, stiamo insistendo molto su questo termine, su questo modo, insomma, di concepire il nostro futuro e insieme a te Serena vorrei parlare di futuro partendo da un mestiere, da una professione che ci riporta al passato, una professione che a volte siamo abituati a guardare per le strade, con la transumanza, mi riferisco al pastore, alla professione del pastore o della pastora. Una professione che ci riporta, come dicevo, indietro nel tempo ma che in realtà sta a guardare molto al futuro. Anche questo penso che sia importante da trasferire, quindi la formazione, la formazione dei ragazzi e ragazze fa capire che questa può essere una possibile strada, una strada fondamentale, perché sappiamo, insomma, è un mestiere in crisi, anche se in realtà ci sono storie molto belle di cambiamento anche da questo punto di vista. Quindi persone che decidono di cambiare la propria professione e abbracciare appunto il mestiere del pastore. Quindi passa anche da qui la sfida Slow Food. Passa anche da qui e anche qui serve un cambiamento culturale radicale, perché è vero che ci sono tantissime esperienze e noi non ci stufiamo mai di raccontarle, di valorizzarle, di sostenerle, ma è ancora troppo radicata, troppo, un'idea sbagliata di agricoltura e pastorizia. Ma è frutto della storia, perché fino a 40 anni fa, ecco, 50 anni fa, nelle famiglie, i figli più bravi andavano a scuola ed erano allontanati dalla terra, perché dovevano studiare e fare mestieri più prestigiosi. Poi se c'era un figlio che faceva un pochino più fatica, quello rimaneva in campagna o andava a fare il pastore. Niente di più sbagliato. Ci vogliono delle competenze straordinarie per fare bene il pastore, per fare bene l'agricoltore. E sono mestieri cruciali. Quindi benvenga che quel che sta succedendo, stanno nascendo scuole di pastorizia in tutta Italia, ma deve passare il concetto che non è un mestiere di serie B, è un mestiere di serie A, non è un mestiere del passato, è un mestiere del futuro. Ed è un mestiere che richiede... Un pastore deve saperne di botanica, di veterinaria, di etologia, di geologia, deve conoscere il territorio ammenadito. Ha delle... Deve avere... E se non le ha, se non le ha non riesce a far bene il suo mestiere, perché non basta star dietro agli animali. Non è quello, non è solo quello. Anzi, il pastore o la pastora diventa anche una sentinella, se vogliamo, dell'ambiente e del territorio che viviamo. Quindi, vero Serena? Assolutamente. Possiamo definirla anche così. È così, è così. Ieri ho presentato un nuovo presidio dell'area del Bellunese, una zona si chiama Livinalongo, e c'erano pastori che producono un formaggio che si chiama Fodom, sopra i 1400 metri fino a 2200 metri, su pendii ripidissimi, su cui quasi è difficile stare in piedi. Ecco, loro, oltre a fare un formaggio straordinario, perché potete immaginare che latte arrivi da quei pascoli, ma loro tenendo pulito, facendo un lavoro faticosissimo, ma presidiando quel territorio, loro stanno facendo qualcosa di utile a tutte le comunità che vivono a valle. Loro stanno facendo qualcosa per il bene comune di chi vive a valle. Solo che il problema è che tutto questo andrebbe riconosciuto, andrebbero sostenuti anche tanti giovani che decino di andare in montagna, e sono esperienze straordinarie, ma troppo spesso si scoraggiano, e troppo spesso smettono dopo qualche anno, perché non si può vivere in questi contesti senza servizi, senza la possibilità di mandare i figli a scuola, senza avere un'adeguata remunerazione, avendo lo stesso carico burocratico di un caseificio industriale. Non si può. Quindi bisogna riuscire a fare un piano complessivo che sostenga queste realtà, anche perché altrimenti la montagna, l'alta collina diventa il luogo del turismo estivo e muore. E poco per volta verrà meno anche il turismo estivo, perché non avranno più nulla da vedere i turisti, no? Perché non sarà attraente. La consapevolezza è un altro termine che amo, che fa un po' da filo conduttore, insieme a cambiamento, in queste dirette di RBA, anche per quelle che riguardano me, i miei colleghi e le mie colleghe. Il cambiamento passa anche da questo, il cambiamento di abitudini alimentari, anche di conoscenza, conoscere il gusto diverso del latte che citavi prima rispetto al latte industriale e la quantità. Abbiamo parlato prima con altri ospiti, deve cambiare anche la quantità? Non deve. Vogliamo cambiare la quantità, perché siamo abituati a un certo regime economico di consumare, il consumismo, quello che si diceva. Anche in questo caso, un appuntamento come CIS e con la sua offerta vuole guidarci a consumare in maniera diversa, differente, meno e in maniera più buona e più sana? Certo, mangiamo troppo, sprechiamo troppo. L'Italia è fanalino di coda per l'obesità nei bambini. L'Italia, come il resto dell'Occidente, spreca un terzo del cibo prodotto. Quindi, il tema è che questi prodotti sono troppo cari è posto male, è posto male, perché il problema è come ci si pone con il cibo. Il cibo è qualcosa che, prima di tutto, ha un valore, prima che un prezzo. Allora, un cibo che non ha valore, che non ha storia, che non ha dietro un territorio, che non ha qualità, allora sì, è troppo caro, anche se costa pochi euro. Quello che importa è il valore. Il valore diventa qualcosa che fa bene anche alla nostra salute. Quello che non spendiamo nel prodotto, quando compriamo un cibo di bassa qualità, lo spendiamo poi per curarci, lo spendiamo poi per dimagrire, perché abbiamo esagerato. questi formaggi sono formaggi che si assaggiano, si conoscono, si mangiano con lentezza, perché non sono solo formaggi, dentro hanno il racconto di un lavoro, di generazioni, di un territorio, quindi sono un'esperienza straordinaria, anche personale di piacere enorme, di piacere personale, di conoscenza, di scoperta, ma questo dovrebbe essere il cibo. Questo non è un discorso né elitario, è un discorso che vale per tutti, perché saremo ben tutti che aspiriamo a essere felici, o solo qualcuno. Allora, il cibo ci permette più volte al giorno un'esperienza positiva, oppure è carburante, che ingogliamo senza attenzione, che ci fa male, che non sappiamo da dove arriva, e che poi ci creerà dei costi soltanto in un secondo momento, senza contare che anche il tema del prezzo è abbastanza relativo, perché io vorrei andare a vedere quanto costano al chilo le sottilette industriali, o quanto costano certi formaggi che compriamo in vaschette di pochi grammi. Al chilo forse non sono così meno cari di capolavori che ci sono qua. Sappiamo quanto costa un ovetto con la sua presa dentro, un ovetto di un cioccolato, un ovetto di un cioccolato, siamo a 90 euro al chilo, veramente il costo di, non so, di un prezioso, di un monile. Quindi, insomma, la consapevolezza è trasmettere questo, è trasmettere questo, comunicarla ai ragazzi e alle ragazze e a coloro, insomma, che poi saranno i consumatori e le consumatrici del futuro. Quindi, la professione nel futuro, il pastore, la pastora, gli allevamenti, i prati stabili, insomma, tanti temi che CIS vuole proporre attraverso, appunto, questo evento di Slow Food. Dove possiamo trovare tutte queste informazioni? Come possiamo fare per informarci, per essere aggiornati, aggiornate e incontrare anche i produttori e le produttrici che producono il cibo buono? È giusto? Allora, io non posso non fare uno spot e dire che la prima cosa che ci piacerebbe tanto è allargare allargare il più possibile la famiglia di Slow Food e quindi associarsi a Slow Food diventare parte attiva perché ci si può associare in tanti modi ma anche solo per avere informazioni quelle che dicevi tu però si può invece anche fare sul proprio territorio qualcosa, fare la propria parte sul proprio territorio. Questo dipende dal tempo, dalla voglia però associarsi significa avere tutte queste informazioni e comunque anche chi non si associa noi abbiamo un sito dove raccontiamo tutti i nostri progetti, tutti i presidi sono pubblicati, tutti gli indirizzi dei produttori tutti gli indirizzi dei produttori che sono qui a CIS sono pubblicati, non teniamo segrete queste informazioni perché per noi il primo obiettivo è aiutare queste realtà. E CIS lo dimostra e lo conferma perché sono tante persone qui presenti che vogliono eventualmente sapere qualcosa di più e vogliono conoscere e apprezzano questa svolta, questo cambiamento per il cibo che è connesso a tanti temi che abbiamo presentato in questa chiacchierata in diretta con Serena Milano direttrice Slow Food Italia buon lavoro Serena abbiamo appena iniziato quindi CIS è un punto di partenza per il lavoro futuro dei prossimi mesi e grazie per essere stata con noi grazie a voi perché per noi anche il vostro lavoro di comunicatori è decisivo per raccontare e amplificare quel che facciamo grazie grazie